Abbiamo venduto la casa, è fatta, è fatta, è viva! Non ci credo che una sorellanza sia trasferita qui. Cosa stai dicendo? Galline andate via! Non funziona così diventano solo più sexy! Ho un'idea. Lo so, è dura, se non pagate l'affitto perderete la casa. Ecco il piano, mi metterò a ballare. Dici che ballando distrarai l'intera sorellanza. Ma come, sono un clown? Vogliono demolire la nostra sorellanza. Dove sono? Brr! Oh no, l'ho ammazzata! Cattivi vicini 2, da giovedì 30 giugno al cinema.